Siamo a Piazza Duomo a Nona, qui da B2E. Che tipo di proposta di ristorazione offrite? Allora, una ristorazione certamente voluta da uno chef, da fare dell'area. È una ristorazione che rispeggia un po' la traduzione con le attuali tecniche di cottura, a parte dopo la materia prima, che è la parte fondamentale di qualità. Da lì poi avvengono comunque varie lavorazioni e come vedete poi stasera avrai la fortuna e il piacere nostro, ovviamente, come ospite, di provare i piatti e di rendere conto la proposta di rivoluzione che c'è stata nella nostra proposta di ristorazione. Però abituai guarda anche alle nuove generazioni e al portafoglio delle nuove generazioni. Esattamente, tanto è vero che si parte con del mio ristorazione tra i 45 e i 50 euro di questi animali o di terra, con una particolare attenzione anche a quelle che sono le proposte tipo di crudine, prodotti crudine e crudine. Però perché pensiamo che in questo periodo, in particolar modo, possa essere l'altra vincente per quanto riguarda la nuova generazione che si avvicina molto a un mondo con la cucina. Ma per i giovani avete pensato anche a una specie di attività di engagement, di giochi? Giochi, sì, comunque orientati con i drink. Partiremo con gli appuntamenti settimanali, il mercoledì in particolar modo, dove cercheremo anche di andare ad accostare gli stilati ai crudi. Nome, cognome e ruolo? Vincenzo Rangeli, presto nel tre Rangeli Costantini.